Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto, Fiorentino e il Bibio per la variante di Valico. Le aree di servizio di Badia Alpino Ovest in direzione Roma e di Montepulciano Est in direzione Bologna sono sprovviste di GPL. In A12 segnalata una perdita di carico tra gli svincoli di Carrara e Massa in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!